Caro Presidente, cari Delegate, cari Delegati, è con piacere che rispondo alla richiesta di inviare un messaggio di saluto alla vostra Assemblea, perché questa occasione mi dà la possibilità di illustrare un progetto che da anni io insieme ad altri portiamo avanti in Libano, parallelamente a quello dei corridoi umanitari che voi sicuramente già conoscete. Un progetto che abbiamo chiamato Medical Hope ed in cui anche voi siete direttamente coinvolti, anche se molti non ne sono consapevoli. Esso questo progetto è infatti finanziato fin dal 2017, anno del suo inizio, dall'otto per mille dell'Ucebi. Medical Hope nasce dal nostro lavoro quotidiano tra i rifugiati nei campi profughi e dall'osservazione che la più grande fragilità presentata da essi era ed è quella sanitaria, in quanto di fronte alla malattia essi sono soli senza poter contare su alcuna assistenza da parte dello Stato ospitante. Il nostro gruppo di intervento è minuscolo, è sottoscritto come medico, un'infermiera libanese, un mediatore linguistico dall'arabo all'inglese che è un rifugiato siriano, una coordinatrice che è italiana e questo gruppo dopo anni ha strutturato una sua specifica modalità di lavoro tramite cui, malgrado l'eseguità del budget, riesce ad intervenire in maniera efficace e dare delle risposte alle comunità di rifugiati con cui lavoriamo. Abbiamo così creato convenzione con due importanti ospedali libanesi, uno nel nord del paese, all'Islamic Hospital di Tripoli, uno nella valle della Bekaa a Ashtura al confine con la Siria e con parecchie strutture di servizio a Beirut. Effettuiamo ambulatori nei quartieri poveri di Beirut e nei campi palestinesi istituiti dopo la cacciata dei palestinesi stessi dalla loro terra nel 1948 ed ancora esistenti quasi un secolo dopo. In una realtà quale quella libanese molto connotata e divisa etnicamente, religiosamente e politicamente, i servizi che noi offriamo sono a disposizione di tutti, a prescindere dalla loro collocazione. Cerchiamo così di dimostrare che è possibile spezzare le catene costruite nel passato, far vedere che le persone possono parlarsi, possono persino stare sedute vicine. Cerchiamo di concentrare il nostro intervento nel settore della salute della donna e dell'infanzia. Donne e bambine, per motivi evidenti, sono quelli che soffrono di più la carenza di servizi sanitari, di prevenzione e di medicine. Insieme a Medici Senza Frontiere, grande organizzazione internazionale, noi seguiamo un gruppo particolare di donne lavoratrici che vengono reclutate dal Libano nel corno d'Africa, cioè in Somalia, Eritrea, Etiopia, nel Sudan e in Bangladesh. Queste lavoratrici vengono chiamate migrant workers. Esse lavorano in condizioni di simile schiavitù, senza alcun diritto, senza alcuna assistenza, subiscono violenze di ogni genere da parte dei datori di lavoro, lasciano i figli nei villaggi di origine e inviano soldi quando riescono per il loro mantenimento. La malattia è quindi per loro una vera tragedia per la impossibilità di sostenere il costo delle cure e anche per loro ne siate informate che viene investita una parte del finanziamento che riceviamo. Bene, è tempo di chiudere il mio intervento che richiederebbe ben altra ampiezza. Mi si concedano due osservazioni finali come conclusioni. Osservazioni che ci coinvolgono direttamente sia come cittadini che come credenti. La prima è che, anche se pochi forse se ne sono accorti, l'Europa a 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale è di nuovo in guerra. Essa è infatti impegnata in almeno tre guerre, due di esse le conduce indirettamente in Ucraina e in Palestina, fornendo armi a due delle fazioni contendenti, cioè l'Ucraina e Israele, e in una terza guerra non meno crudele e invece impegnata direttamente. Mi riferisco alla guerra contro i poveri e i migranti che l'Europa e l'Italia hanno da tempo dichiarato e recentemente intensificato. Guerra che ha causato almeno 45.000 morti negli ultimi venti anni, quindi una guerra in piena regola, che viene nascosta però e ipocritamente teciuta, ma nella realtà combattuta dall'Italia e dall'Europa con tutte le armi disponibili, quelle militari con la missione Frontex, ma anche con muri di divisione, barriere di filo spinato, campi di concentramento, leggi crudele ed afflittive, abbandoni in mare dei profughi, guerre alle ONG che cercano di prestare soccorso. La seconda osservazione è che, come afferma un importante ed attento osservatore della nostra società, cioè lo psicologo Luigi Zoya, viviamo tempi difficili e confusi, caratterizzati da una parte dalla cosiddetta morte di Dio, un'espressione con cui nel secolo scorso si voleva individuare la irrilevanza in cui il discorso religioso era stato relegato in Occidente, nella nostra società. Ma dall'altra, in questo primo scorcio di seguito, alla morte di Dio, si aggiunge un'altra morte, altrettanto inquietante, specie per i credenti. Si tratta della morte del prossimo, un concetto duro da accettare per i credenti ma reale. Morte del prossimo sta a significare la progressiva scomparsa delle relazioni interpersonali, l'affermarsi di un individualismo esasperato che fa a meno di ogni legame sociale, il disinteresse per il destino di chi ci sta accanto o vediamo soffrire dagli schermi televisivi mentre affonda con la sua carretta nel mare o viene colpito da un missile in una scuola a Gaza. Ecco, se questa intuizione è vera, quella della morte del prossimo, cioè penso proprio che lo sia, allora c'è tanto da fare oggi per i credenti. Vi lascio quindi con l'augurio di intenso e fruttuoso lavoro. Grazie.